Accertare gli standard sulla sicurezza nei luoghi di lavoro, nel sistema produttivo territoriale, promuovere una campagna di informazione, comunicazione e diffusione della cultura della sicurezza. Con questo intento fa tappa anche a Caltanissetta il progetto Lavoro Sicuro, promosso da Sicilia Impresa, presentato nel corso di una conferenza stampa alla Camera di Commercio, che ha patrocinato l'iniziativa assieme a Confindustria Centro Sicilia, al Comune di Caltanissetta, all'ASP, alla Direzione Territoriale del Lavoro, all'Inail, alla CGL, Cisleguil, al CNA, alla Confartigianato, Confesercenti, Col Diretti e all'Associazione Generale Cooperativa Italiana di Caltanissetta. Un progetto che prevede, oltre alla somministrazione di un questionario alle imprese, i cui dati saranno resi noti lunedì 19 dicembre nel corso di una tavola rotonda che si terrà alla biblioteca Luciano Scarabelli, anche la realizzazione di una piattaforma informatica e di un sito web che raccoglieranno e analizzeranno dati, informazioni, norme e linee guida in supporto alle imprese. Riteniamo che sia importante, pur in un momento di crisi come quello che stiamo attraversando, e quindi molto spesso viene intesa l'attività di prevenzione come un costo per l'impresa. Così non è perché si tratta di un'opportunità e soprattutto non solo riguarda la tutela dei lavoratori, ma lavorare in sicurezza significa anche essere più competitivi. Quindi l'azione è mirata non solo a fare il punto della situazione, quindi lo stato dell'arte, ma a individuare successivamente alla valutazione dei questionarii, quindi dei risultati, delle misure opportune perché l'impresa, laddove dovesse essere carente un'attività di prevenzione, potrà in qualche modo utilizzare strumenti anche di tipo finanziario che potranno in qualche modo consentire la messa in sicurezza e la messa in regime delle attività lavorative. Un tema attuale è quello sull'importanza della sicurezza del posto di lavoro, quello discusso a Caltanissetta all'indomani del tragico incidente avvenuto al porto di Messina che è costato la vita a tre marinai. I dati infatti sugli incidenti sul lavoro sono ancora significativi nonostante si sia registrato un calo. In questo momento per i dati raccolti negli anni passati, in qualche modo c'è stato un calo degli incidenti sul lavoro, ma è possibile anche attribuire questo alla mancanza di lavoro e quindi delle commesse soprattutto nelle attività che riguardano soprattutto i lavori pubblici. Tuttavia in proporzione diciamo che c'è stata una diminuzione degli incidenti, ma ancora molto sia da fare perché quando si va a lavorare è naturale che non bisogna rischiare la vita, ma si va a lavorare per guadagnare.